Signore e signori, da questo momento è stato di prendere la mano, vi porteremo lontano, lontano, come non lo so, ma so so che balleremo tutte le notte, fino alle prime luci dell'alba. E su e stai. Un po' poccatina, aspetta, voglio fare una domanda. Quanti di voi sono fidanzati in questo contesto? Quanti di voi ammogliati? Quanti di voi sono fidanzati in questo contesto? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti